allora questo è un video che consiglia come come staccare le pellicole di vetro quando magari il telefono lo smartphone cade si danneggiano e insomma toglierle a volte diventa un po un problema vi consiglio di agire su un angolo lo sollevate io vabbè un po l'ho già fatto magari lo fate io l'ho fatto con l'unghia ma state attenti perché un po pericoloso ste cavolo di pellicole ok sollevato un filo mettete stuzzicadenti e lentamente vedete che inizia a scollarsi poi ne prendete un altro adesso questo con segredenti difettoso ma fa il caso nostro continuate ad agire con molta 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 pazienza vedrete che piano piano la bolla diciamo quello che sembra una bolla si aumenta molta delicatezza questa bolla aumenta ed è la pellicola che si sta staccando sempre con estrema pazienza lasciate lavorare gli stuzzicadenti al massimo sollevate un filo con una certa lentezza noterete che come vedete in alto lentamente si sta staccando molto lentamente ogni tanto partono dei pezzi di vetro non è gradevole attenti agli occhi sta esercitando una leggerissima pressione sugli stuzzicadenti e vedete che con pazienza si stacca praticamente quasi da sola con una lentezza veramente poi piano piano il segreto è la pazienza tac e di lì è venuta via poi lì purtroppo più è danneggiata e più sarà un problema però sempre quello stesso sistema lentamente puntate e siamo riusciti a rimuovere la pellicola danneggiata tanta pazienza e due stuzzicadenti grazie grazie grazie